Il protocollo è stato stilato unitamente anche all'osservatorio legislativo ecclesiastico, quindi abbiamo la rappresentanza della conferenza episcopale italiana e anche con l'ufficio regionale scolastico. È un'unione in cui abbiamo evidenziato che ognuno ha rispetto dei propri voli, dobbiamo intervenire all'interno delle scuole con programmi di comunicazione e di informazione per i nostri ragazzi dettagliati e omogenei. Quindi ci sarà una formazione all'interno di tutte le scuole che insistono sul territorio regionale, affronteremo le problematiche del principio di legalità, inizieremo con la legalità con il procuratore, con il Presidente Antoci, poi andremo sulle problematiche dell'alcol, droga, dipendenze alimentari, insomma come hanno eradicato in Islanda i fenomeni sociosanitari dei ragazzi. I ragazzi come in una società cosiddetta fluida, dove non vi è confine, non vi sono poi considerazioni in merito alla struttura, alla formazione di questi ragazzi, la fragilità. Quindi ad esempio abbiamo avuto nella provincia di Pescara 1.500 accessi lo scorso anno, scaglionati del tempo, di crisi di panico, quindi poi ci sono le assunzioni di droga, insomma hanno una fragilità importante e pertanto dobbiamo intervenire con una comunicazione omogenea per far sì che questi ragazzi inizino anche ad avere un colloquio, perché spesso ormai si è perso quel rapporto, quel contatto fisico tra gli stessi, dovuto anche all'area della digitalizzazione. Il personale docente io credo che soffra ancora di più, perché da quando poi anche in questa società ribadisco fluida in cui anche i genitori sono entrati all'interno delle scuole, invece è quello che dobbiamo a mio avviso ripristinare ognuno la propria competenza, quindi per far sì che questi ragazzi finalmente abbiano anche un riferimento di una figura autorevole in noi adulti e sminuire un insegnante che dovrebbe essere la tua luce per quanto riguarda il tuo percorso di vita, significa abbattere ogni argine e quindi abbiamo questi ragazzi che manifestano una fragilità importantissima. Purtroppo è aumentato il 38% di infortunistica mortale, ma quello che è aumentato ancora di più sono le dipendenze alimentari, quindi le distorsioni in ambito alimentari, vediamo che queste ragazzine purtroppo con questi anche filtri hanno un'immagine distorta di sé e quindi vedendosi all'interno dei social totalmente diversi poi hanno anche un non riconoscimento della propria immagine e quindi una crisi in merito alla propria identità, alla propria personalità. Insomma, io credo che come hanno fatto in Islanda, che hanno eradicato le problematiche dei ragazzi, noi adulti abbiamo acquisito la consapevolezza che abbiamo sbagliato, perché questi sono i risultati oggettivi, i risultati sociosanitari e porremo rimedio, perché in modo concreto porremo rimedio.